Buongiorno, come vedete dalla mia faccia sono un po' distrutto e da ciò potete intuire che è presto nella mattina Ultimo giorno di riprese del videoclip musicale della prima canzone della mia band Devo cercare di svegliarmi un po' perché devo appunto respirare, potrebbe essere un buon primo passo Tastiera del video caricata, raggiungiamo gli altri che sono già alla location Gli altri sono laggiù Luca, Steve ha pestato una cacca Sentite che puzza, sentitela la puzza Ciao Nick Ciao A che ora sei arrivato Nelson? Ma Tonno non c'è ancora A che ora sei arrivato? Tonno non c'è ancora Tonno dopo si beccherà la sua cazziatona Noi ci mettiamo così e poi Che maestrosità Eh non lo so Dai Nelson, casseggiatore Signor Nelson Mentre ci prepariamo Stiva non perde mica tempo Luis Arrivo Avevo dato la videocamera a Bic e vi ha dimenticati sotto l'albero in un prato Quindi abbiamo rischiato grosso Grazie Bic Prego Nel frattempo guardate chi è arrivato Il Tone Nooo Ma che ho arrivato il Tone? Ho aiutato nonna Hai aiutato nonna? Ma non è vero Non è vero Ma non è vero Non è vero Non è vero Te lo giuro Stiamo per fare cose che neanche ad Hollywood Guardate con Ma mamma sono un cameraman Uh le cameraman Con la macchina Sto arrivando Con la videocamera non stabilizzata Quindi chissà che meraviglia verrà fuori Vai piano è che c'è un bambino a bordo Fa stentorno Non fa ridere Siete pronti? Sono appena rovinosamente caduto a terra per una scena E ho graffiato il Daniel Wellington Top Non è un buongiorno senza un po' di Tone Hai i capezzini assicurati Probabilmente involontariamente però Tone è vestito da Ciube Tu calcola E hai i capezzini di Ciube Ehi Guardate le mie mani Sono distrutte Mi bruciano Uno Anche quest'altra qua Eeeh Guardate che manzo che è Nicolas Abbiamo fatto delle scene con questa macchina e non parte più Sono una rotta E comunque in queste scene Oggi è l'autodistruzione di Nels Almeno di fianco al tubo di scarico Mi sono immerdato di brutto tutto quanto Il pantalone Orologio Mani Pantalone Macchina Oggi è distruttivo Distruttivo Gira Luca Gira Non scusa Gira Massacrante Soprattutto per Tone Che con 500 milioni di gradi è vestito da Ciubecca Come stai Tone? Potrebbe essere il nuovo effetto di una droga Ragazzi vedete questo pellicciato non capirete che è niente Non capisco niente Quanto mi paghi scusa per queste riprese Via di cavi Perché qua la situazione è criptica Criptica per non dire critica Quindi attacco E il rosso dove si attacca? Signor Vic tu non sai dove si attacca il nero Non stiamo capendo dove si attacca la roba Ok è partita la macchina È partita la macchina Nuova scena in preparazione Grande Luca Ragazzi abbiamo finito il video Ciao a tutti Fuori a pranzo Ho il timore che finirò a mangiare in un ristorante vegano Ma è ancora soltanto un leggero timore Speriamo di no C'è una mia amica che per lavoro tipo vive all'estero In Portogallo E in questi giorni è a Bologna È tornata qua E sta qua una settimana Per cui la vedo per pranzo E dopo vado a vedere il nostro idolo Ne approfitto che sono già in centro qua a Bologna Vi ha detto alle torre Torri uguale a centro Anche tutto questo è uguale Cioè anche questo è centro Però quello è di più Quello è più centro Perché tu capi? Io c'ho Semania Ma come si fa a mangiare quello che ho scelto? Stavo camminando e È muto Luis Non parlano in realtà Quando sentite che esce voce dalla sua bocca È doppiato È linda Ho fatto due chiacchiere con Luis L'ho salutato E adesso raggiungo a casa sua Uno dei nostri più grandi idoli Questo perché dobbiamo fare un video insieme Colgo l'occasione per raggiungere la mia collezione Questo ascensore Ho un po' paura perché solitamente questo nostro amico di cui ancora non vi ho svelato il nome Fa video poco consumi Pericolosi E di pura sofferenza E ho paurissima Tanta Ma insieme Sopravviveremo Ecco Questa è la sua videocamera E il creator con cui collaboriamo oggi è Che noia però Luis Luis Ciao Buonanotte Con Luis Oggi Ma l'ha appena Ma perché c'ho il naso così rosso Ma cosa è successo Boh Ah perché c'è il Red Nose Day L'ho visto nel vlog di Casey Sarà quello allora Mi ha appena svelato la challenge di oggi perché ancora non me l'aveva detta Mangeremo un chilo di hamburger Un chilo di hamburger In questa casa si può urlo anche Che urlo un sacco Sì 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 Ok Modalità restrizioni Dato che lui non so perché non filma la preparazione La filmo io nel vlog Così almeno ho un pochino di questa challenge anche al mio interno E poi ovviamente quando sarà pubblico il video Ve lo darò Vi darò il link per andarlo a guardare Su Telegram e i vari social network di cui dispongo Così mi esplodete Di venti ricco Tagliare la cipolla Mettere la cipolla nella carne In questo caso sono due chili da dividere per due Quindi un chilo a testa Ma potete metterla anche se avete meno chili Tagliare i pomodori Tagliare i peperoncini Perché sì Questi hamburger sono peccanti Ma che mi paralizza quando parli Prevedo la morte Quando parti con i video Ho capito perché sembro sempre muto Perché mi paralizza Da un momento all'altro Sono lì che sto facendo qualcosa Tu parti col video Non so come reagire Inizia a urlare O a sorridere E basta Ma tutti questi? No 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 Mettere il peperoncino nella chili Spremere Creare gli hamburger e metterli a cuocere È un fiamore Però dai sono quasi carico per fare questa challenge Sei bravo in cucina Lui Magari sono cattivi però Però è tanta tanta roba Quindi Quindi No Mettere la sottiletta sulla carne Travasare Wow Però mi ispira Cioè So che moriremo Ma sono quasi contento di morire Ho appena pranzato in realtà Tutto il cinese E ce l'ho ancora sullo stomaco Però questa sottiletta è così invitante Per fortuna almeno il pane Non ha l'olio di parma La carne inizia ad accumularsi Puoi mettere i pomodori nel piatto Con nascosto qualche pezzo di peperoncino Tagliare il pane Il pane e le verdure sono qua La carne è lì Luis è lì E ci apprestiamo ad iniziare la challenge Avevo messo la telecamera qua Fanno fame Solo che sono un chilo a testa La verdura è ricordata Sta teglia è quasi da leccare Segui i video dove spalmano il make up Grazie Luis Arrabbiati anche tu ombre Diglielo Mettere il ketchup Quantità a piacere Non so se l'avevo filmato Ma già c'è una base di maionese Insalata a piacimento La quantità che entra La quantità giusta Non è entrata neanche un po' Perché l'insalata è cattiva Non ha foglia in due Pomodori Questo tuo hamburgerazzo da tre È veramente catta fra ciò È bello Questo fa fame Questo fa fame davvero Chiudiamo gli hamburger Sì porca vacca Sembra neanche una burger Noi adesso iniziamo Ci vediamo dopo Probabilmente staremo abbastanza male E speriamo di Sì così fai tanti views Ma di no perché così riesco a concludere il vlog di oggi In qualche modo Abbiamo piazzato le videocamere Abbiamo piazzato i panini Ciao Sono tutto unto quindi vi tocco poco Abbiamo finito Peso una cosa tipo 15 kg in più Luis ha finito Invece no Sono arrivato secondo me a 7-800 grammi Ma proprio non sapevo come farci Non hanno più le forze neanche di parlare Sto per vomitare Ricordatevi di bere l'acqua Non riesco a zoomare E qua non qui Acqua Noi non avevamo finito il video in teoria Ma si sono spente entrambe le videocamere Quindi abbiamo finito il video Non credo avere le forze di alzare Questo è la situazione Vi darò il link quando sarà disponibile Probabilmente oggi o domani E sto malissimissimissimissimissimo Perché? Io speravo solo di avere una carriera in fortuna Non riesco più neanche a pensare ragazzi Sono tipo adesso senza accorgermene Vi sto reggendo su un precipizio altissimo Che non è molto saggio Ma vi giuro che non riesco più neanche a pensare Non so se ho mai mangiato così tanto E mangiare così tanto è pericoloso Quindi non imitateci a casa Non fatelo Non prendete esempio Perché ho il naso rosso? Forse l'ho bruciato oggi alle riprese del video della band Ciao Luis Sono arrivato a casa ma Devo fare la... Ho mangiato troppo Ma devo venire qua Nicolas Che dobbiamo iniziare a montare il videoclip Della canzone della band E però finché non arriva Mi sa che schiaccio un pisolino Stiamo iniziando a montare la canzone Che qua non vedete il titolo precisamente Quindi non è spoiler È arrivato Nicolas Ciao sto contando un video Bicche il paruolo Non ti mette a fuoco Aspetta Continua a digitare Finché non ti mette a fuoco Dai videocamera Ce la puoi fare? Videocamera Dai videocamera Dai videocamera Ciao sono un regista Prova a chiederglielo te Nicolas Videocamera per favore Mettimi a fuoco Ci siamo Oh mio dio Guardatemi So montare È una cosa molto triste questa Abbiamo quasi finito di montare il video della canzone Piccolissimo spoiler Sono le mezzanotte 35 B Che mi aveva detto Dobbiamo finire assolutamente entro mezzanotte E invece Siamo ancora Sei ancora fuori fuoco Non posso compagermi il vlog Ci siamo Eh ci siamo Ehi Guardate che faccetta da cucciolo stanco Che ha che occhi lucidi Assoldo Ma se la faremo Finiremo questa bellissima opera Bella Bic Ci siamo finito Circa domani dobbiamo sistemare Però siamo a buon punto Buonanotte Abbiamo fatto una bella cosa Insomma Siamo dei produttori adesso Buonanotte Voglio andare a dormire Buonanotte Buonanotte Ciao Ciao La mia amica mi ha portato Questi dal Portogallo Però non ho fame Dopo aver mangiato la roba con Luis Non ho capito come si pronunciano Tipo Pastè Tenata Non lo so Li ho visti mangiare anche nel video di Human Safari Lui mi ha detto essere molto buoni Quindi sono molto hypato per mangiarli E credo siano la mia colazione domani Giornata domani In cui si torna a fare un po' di sport Detto questo Io per oggi vi saluto È stata una giornata molto faticosa Sono molto stanco Ma sono anche molto contento Perché Finito il video della band Girato il video con Luis Montata la prima bozza del video con la band È stata una giornata Producente Produttiva Lasciate un mi piace qui sotto Cerchiamo di arrivare a 3000 Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Seguitemi sui social network Che trovate in descrizione Soprattutto su Instagram E noi ci vediamo Domani Fatti bravi 7,6,5,4,3,2,1 You'll never have the sacred stone Soprattutto sui social network Soprattutto sui social network Soprattutto sui social network Soprattutto sui social network